La CAC Ceramica è una multinazionale con sede negli Emirati Arabi Uniti. Le novità, senz'altro, quest'anno sono le grandi lastre, quindi le grandi superfici. Grandi lastre che sviluppiamo in vari formati, dal 120-240 passiamo al 120-260 e poi per passare al metro per tre. Grandi lastre che oggi sono all'avanguardia, senz'altro, in quello che può essere il prodotto tecnologico di Rax Ceramics. Un utilizzo totale che va oltre il classico utilizzo della lastra, così come pezzo di arredamento, ma piuttosto come vero e proprio complemento di arredamento. Infatti oggi con le grandi lastre, come potete vedere alle mie spalle, si possono sviluppare librerie, si possono sviluppare tavoli, tavolini, non ultimo anche cucine. In più, Rax Ceramics si presenta quest'anno con un'innovazione tecnologica piuttosto importante, che è la lastra translucent, ovvero la lastra che permette l'utilizzo della luce nel back della lastra stessa e che illumina il prodotto e rende quindi il prodotto simile a qualsiasi marmo che oggi potete trovare nelle grandi hall degli alberghi oppure nei grandi appartamenti di lusso con la piastrella illuminata. Rax Ceramics negli anni è sempre stata un'azienda dedicata al tecnico, ma negli ultimi anni avevamo perso un pochettino questo target. Quest'anno invece ci riproponiamo con il vero prodotto tutta massa, quindi non solo il colorato in massa, che si è abituati oggi a vedere in quasi tutte le ceramiche, ma con un prodotto che può essere utilizzato comodamente in qualsiasi centro commerciale o spazio ad alta densità di traffico. Sono anni che Rax Ceramics ormai si propone come Lifestyle Solution Provider, quindi il mondo del sanitario sempre più diventa una componente fondamentale per il nostro gruppo. Quindi il mondo del designer, il mondo del colore, il mondo della moda diventano sempre più parte integrante di quello che è il motto del nostro gruppo.